avevo visto il negozio di magia da lontano diverse volte l'avevo sorpassato una o due volte una vetrina di piccoli oggetti seducenti palline magiche galline magiche coni meravigliosi bambole da ventriloquo materiale per il trucco del cestino mazzi di carte che sembravano normali e tutto quel genere di cose però non avevo mai pensato di entrare fino a un certo giorno in cui quasi senza preavviso gip mi aveva tirato per il dito fino alla vetrina facendomi così capire che non avrei potuto fare altro che portarcelo dentro non avevo pensato che quel posto si trovava lì a dire il vero una facciata di modeste dimensioni a region street fra il negozio di fotografie e un posto dove i pulcini si mettono a scorrazzare appena usciti dagli incubatori ma era proprio lì avevo immaginato che fosse più vicino a piccadilli circus o dietro l'angolo verso oxford street o addirittura holborn sempre sulla strada e un po inaccessibile in una collocazione che aveva qualcosa del miraggio ma adesso era indiscutibilmente qui e la grossa punta del dito teso di gip fece un rumore sul vetro se fossi ricco disse gip indicando l'uovo che scompare me lo comprerei e quello era il bambino che piange assai umano e quello che era un mistero con scritto vicino come affermava una bella cartolina comprane una e stupisci i tuoi amici tutti quanti disse gip scomparirà sotto uno di quei coni l'ho letto in un libro e là papi è il mezzo penny che scompare solo che l'hanno messo in questo modo all'insù così non possiamo vedere come si fa gip caro ragazzo che ha preso da sua madre non mi propose di entrare in negozio o di farci troppo caso solo che sapete in modo inconsapevole mi spinse il dito verso la porta rendendo chiaro il suo interesse quella disse indicando la bottiglia magica se fosse tua dissi a questa domanda promettente lui alzò uno sguardo improvvisamente luminoso potrei mostrarla a jesse disse come sempre pensando agli altri sono meno di cento giorni al tuo compleanno gible dissi e posai la mano sulla maniglia della porta gip non rispose ma la sua presa si strinse al mio dito e così entrammo nel negozio non era un negozio comune era un negozio di magie e tutta la preoccupante priorità che gip avrebbe dato a dei semplici giocattoli stava cambiando lasciò l'onere della conversazione a me era un negozio piccolo e stretto non molto ben illuminato e il campanello alla porta risuonò di nuovo con una nota lamentosa mentre la chiudevamo dietro di noi per un momento fumo soli e potemo dare un'occhiata intorno c'era una tigre di carta pesta sulla scatola di vetro che copriva il basso bancone una tigre grave e accattivante che faceva ondeggiare la testa ritmicamente c'erano parecchie sfere di cristallo una mano di porcellana che teneva delle carte magiche una serie di bolle magiche per i pesci in varie taglie e un cappello magico sfrontato che mostrava spudoratamente le sue molle sul pavimento c'erano specchi magici uno per farti sembrare lungo e sottile uno per gonfiare la testa e far svanire le gambe e uno per renderti basso e grasso come una palla e mentre stavamo ridendo di tutto questo il negoziante immaginai fosse lui entrò ad ogni modo eccolo dietro il bancone un uomo curioso giallastro oscuro con un orecchio più grande dell'altro e un mento come il rinforzo di uno stivale come posso avere il piacere di servirvi disse allargando le dita lunghe magiche sulla scatola di vetro e fumo di colpo consapevoli di lui vorrei dissi regalare al mio ragazzo alcuni semplici trucchi presti digitazione chiese qualcosa di meccanico da fare in casa qualcosa di divertente dissi disse il negoziante e si grattò la testa per un momento come se pensasse poi abbastanza distintamente estrasse dalla testa una palla di vetro qualcosa di questo tipo disse tenendola davanti a noi il gesto era inaspettato avevo visto quel trucco fatto mille volte prima in occasione di intrattenimento è parte del repertorio comune dei prestigiatori ma non l'avevo previsto qui è bello dissi con una risata vero disse il negoziante gip allungò la mano disimpegnata per prendere l'oggetto e si ritrovò soltanto il palmo vuoto è nella tua tasca disse il negoziante ed era là quanto viene chiesi non facciamo pagare le palle di vetro disse il negoziante educatamente le abbiamo ne tirò fuori una dal gomito mentre parlava gratis ne tirò fuori un'altra dalla nuca e la mise accanto a quella di prima sul bancone gip fissava saggiamente la sua sfera di vetro poi lanciò un'occhiata indagatrice alle due sul bancone e finalmente riportò il suo sguardo sul negoziante che sorrise puoi avere anche quelle disse il negoziante e se non ti spiace anche una dalla mia bocca così gip si consultò silenziosamente con me per un istante e poi in profondo silenzio mise via le quattro palle riprese il mio dito rassicurante e si preparò per l'evento successivo tutti i nostri piccoli trucchi sono fatti in questo modo osservò il negoziante risi come chi sta al gioco invece di andare al negozio all'ingrosso dissi certo è più economico in un certo senso disse il negoziante benché paghiamo alla fine ma non così tanto come la gente crede i nostri trucchi più grandi le nostre disposizioni giornaliere e tutte le altre cose che vogliamo escono da quel cappello e signore mi perdoni non esiste un negozio all'ingrosso non per prodotti di magia genuina signore non so se è notato la nostra insegna il negozio di autentica magia estrasse un biglietto da visita dalla guancia e mi lo consegnò autentica disse con il dito sulla parola e aggiunse non c'è alcun inganno signore sembrava che avesse eseguito il trucco piuttosto bene pensavo si rivolse a gip sorridendo con notevole affabilità sai tu sei il tipo giusto di ragazzo rimasi sorpreso che lo sapesse perché per motivi di disciplina è un segreto anche a casa ma gip l'accolse con un silenzio impenetrabile tenendo saldo lo sguardo sull'uomo solo il tipo giusto di ragazzo attraversa quella porta e per mostrarcelo la porta fu scossa e si sentì debolmente una piccola voce stridula voglio andarci papi voglio entrarci e poi i toni di un genitore sfinito che tentava consolazioni e parole propizie è chiuso edward disse ma non lo è dissi io lo è signore disse il negoziante sempre per quel tipo di ragazzino e mentre parlava potevamo intravedere l'altro ragazzo un viso piccolo bianco pallido per il sovraccarico di dolci e cibi troppo saporiti distorto dalle passioni malvagie un piccolo egoista spietato che palpeggiava il portale incantato non è un buon ragazzo disse il negoziante mentre mi mossi con la mia naturale disponibilità verso la porta mentre il ragazzino viziato veniva trascinato via urlante come ha fatto dissi respirando un po più liberamente magia disse il negoziante con un gesto non curante della mano ed ecco scintille di fuoco colorato volarono dalle sue dita e svanirono tra le ombre del negozio stavi dicendo disse rivolgendosi a gip prima che entrassi che vorresti una delle nostre scatole comprane una e stupisci i tuoi amici gip dopo un nobile sforzo disse sì ce l'ha in tasca e appoggiato al bancone aveva davvero un corpo straordinariamente lungo questa incredibile persona produsse l'articolo nella sua consueta maniera da mago carta disse e tolse un foglio dal cappello vuoto con le pinze laccio ed ecco che la sua bocca era una scatola di lacci con cui disegnava un filo interminabile che dopo aver legato il pacco tagliò con un morso e mi parve che inghiottisse la palla di corda poi accese una candela vicino al naso di uno dei fantocci da ventriloquo gli mise un dito che era diventato rosso come la cera da sigillo nella fiamma e quindi sigillò il pacco e poi c'era l'uovo che scompare osservò lui ne strasse uno dalla tasca interna del mio cappotto e lo confezionò e anche bambino che piange assai umano passai tutti i pacchetti a gip non appena fatti e lui se li strinse al petto disse molto poco ma i suoi occhi erano eloquenti come li stringeva tra le braccia era eloquente era un gioco di emozioni indicibili questa sapete era vera magia poi con uno scarto sentì qualcosa che si muoveva nel mio cappello qualcosa di morbido che saltellava gli diedi una manata e un piccione arruffato certamente un confederato fuggì via verso il bancone e finì credo in una scatola di cartone dietro la tigre di cartapesta tut tut disse il negoziante sottraendomi con facilità al mio copricapo uccello sconsiderato a farsi un nido così scosse il mio cappello e fece cadere nella mano tesa due o tre uova una grossa biglia un orologio una mezza dozzina di inevitabili palline di vetro e poi un giornale sgualcito e strappato sempre più cose parlando tutto il tempo del modo in cui le persone trascurano di spazzolare i loro cappelli dentro e fuori naturalmente in modo gentile ma con una certa intenzione personale ci va dentro di tutto signore non lei in particolare naturalmente quasi tutti i clienti è incredibile quello che portano con sé il giornale a cartocciato si sollevò e fluttuò sul bancone fino a che non restò quasi nascosto da noi e poi totalmente nascosto e la sua voce continuava nessuno di noi sa cosa la parvenza normale di un essere umano possa nascondere signore siamo tutti dunque non migliori di involucri spazzolati di sepolcri imbiancati la sua voce si fermò esattamente come quando hai colpito il grammofono di un vicino con un mattone ben mirato lo stesso silenzio istantaneo e il fruscio della carta si fermò e tutto restò immobile ha terminato con il mio cappello dissi dopo un intervallo non ci fu risposta guardai ghip e ghip mi fissò e le nostre figure distorte negli specchi magici parevano bizzarre e gravi e quiete penso che andremo adesso dissi mi può dire quanto viene tutto questo senta dissi poi con una nota piuttosto forte vorrei il conto e il mio cappello per favore parve di sentire un sospiro da dietro la pila di carta guardiamo dietro al bancone ghip dissi ci sta prendendo in giro guidai ghip intorno alla tigre con la testa oscillante e cosa pensate che ci fosse dietro al bancone proprio nessuno solo il mio cappello sul pavimento e un comune coniglio bianco da prestigiatore con le orecchie abbassate e perduto in meditazione che sembrava stupido e sgualcito come solo un coniglio di prestigiatore può sembrare recuperai il mio cappello e il coniglio fece un saltello allontanandosi da me papi disse ghip con un colpevole sussurro che cosa c'è ghip chiesi mi piace questo negozio papi anche a me piacerebbe dissi fra me e me se il bancone non si estendesse improvvisamente per allontanare la gente dalla porta ma non richiamai l'attenzione di ghip micio disse allungando una mano verso il coniglio che usciva passandoci davanti micio fai una magia per ghip i suoi occhi lo seguirono mentre si strizzava in una botola che certamente non avevo visto un attimo prima poi questa porticina si aprì di più e l'uomo con un orecchio più grande dell'altro riapparve stava ancora sorridendo ma il suo sguardo mi incontrò con qualcosa tra il divertimento e la sfida le piacerebbe visitare il nostro showroom signore disse con innocente disinvoltura ghip mi tirò il dito guardai il bancone e incontrai nuovamente gli occhi del negoziante stavo cominciando a pensare che quella magia era un po troppo autentica non abbiamo molto tempo dissi ma in qualche modo ci troviamo all'interno dello showroom prima di finire di dirlo tutte merci della stessa qualità disse il negoziante sfregandosi le mani flessibili e questo è il meglio non c'è niente qui che non sia un'autentica magia è completamente bizzarra e garantita ma mi scusi signore lo sentì tirare su qualcosa che si aggrappò alla mia manica e poi vidi che teneva un piccolo demone rosso per la coda la piccola creatura mordeva e combatteva e gli attaccava la mano e in un attimo lo gettò incurante dietro al bancone senza dubbio la cosa era solo una figurina di gomma ritorta ma per un momento e il suo gesto era esattamente quello di un uomo che si occupava da un po di piccoli morsi di parassiti guardai ghip ma ghip stava guardando un cavallo a dondolo magico ero contento che non avesse visto quella cosa senta un po dissi a mezza voce indicando ghip il demone rosso con gli occhi rossi non ha molte cose di questo genere vero non è roba nostra probabilmente se lo è portato con sé disse il negoziante anche lui sotto voce e con un sorriso più abbagliante che mai è stupefacente cosa la gente porta con sé senza farsi scrupoli e poi a ghip vedi qualcosa che ti piace qui c'erano molte cose che a ghip piacevano lì si rivolse a quell'incredibile commerciante con fiducia e rispetto è una spada magica chiese una spada giocattolo magica non si piega non si rompe e non taglia le dita rende il suo padrone invincibile in battaglia contro chiunque sia sotto i 18 anni da mezza corona a 7 e 6 pens a seconda delle dimensioni queste vesti sulle carte sono per giovani cavalieri erranti e sono molto utili lo scudo per la protezione i sandali per la velocità e un elmo per l'invisibilità oh papà ghip era a bocca aperta cercai di scoprire quanto costassero ma il negoziante non mi prestava attenzione ora aveva ghip lo aveva separato dal mio dito si era imbarcato nell'esposizione di tutti i suoi sconvolgenti magazzini e niente lo avrebbe fermato in quel momento lo guardavo con una certa sfiducia e qualcosa di molto simile alla gelosia perché ghip stava stringendo in mano il dito di costui come di solito stringeva il mio senza dubbio il tizio era interessante pensavo e aveva un sacco di cose bizzarre parecchio interessanti roba posticcia ma realmente buona eppure giravo loro intorno dicendo molto poco ma tenendo d'occhio questo tizio presti digitale dopo tutto a ghip piaceva e senza dubbio quando fosse arrivato il momento di andare avremmo potuto farlo senza problemi era un luogo lungo e scomposto quello showroom una galleria interrotta da banchetti e bancherelle e pilastri con archi che conducevano ad altri settori in cui gli assistenti dall'aspetto più bizzarro ti guardavano e fissavano tra specchi intricati e tendaggi questi erano così complicati che non ero in grado di capire da quale porta fossero venuti il negoziante mostrava ghip treni magici che funzionavano senza vapore o meccanismi bastava fissare i segnali e poi alcune scatole di gran valore piene di soldati che prendevano vita immediatamente non appena si toglieva il coperchio e disse non ho un orecchio molto pronto ed era un suono distorto ma ghip che all'orecchio di sua madre lo capì immediatamente bravo disse il negoziante rimettendo gli omini nella scatola senza tante storie e consegnandola ghip adesso disse il negoziante e in un attimo ghip li aveva riportati tutti in vita prenderai la scatola chiese il negoziante prenderemo quella scatola disse io a meno che non ci faccia pagare il suo valore totale in questo caso avrebbe bisogno di un garante per la fiducia santo cielo no e il negoziante rimise via i piccoli uomini chiuse il coperchio agitò la scatola in aria ed era lì avvolta in una carta marrone legata e con sopra il nome e l'indirizzo di ghip il negoziante rise al mio stupore questa è la magia autentica disse quella vera è un po troppo autentica per il mio gusto risposi ancora dopodiché si mise a mostrare trucchi a ghip trucchi strani e ancora più strano era il modo in cui li faceva gli spiegava li rovesciava al contrario e il mio caro ragazzo annuiva con il suo testone in modo molto compito non partecipai come avrei voluto in un baleno disse il magico venditore e poi arrivava il chiaro piccolo in un baleno del ragazzo ma ero distratto da altre cose mi stavo rendendo conto di quanto fosse enormemente bizzarro questo posto era per così dire inondato da un senso di stranezza c'era qualcosa di un po strano perfino nelle finiture anche sul soffitto sul pavimento sulle sedie distribuite in modo casuale avevo la strana sensazione che ogni volta che non le guardavo dritto si allontanassero a poco a poco si muovessero e giocassero a nascondino alle mie spalle e la cornice aveva un disegno serpentino con maschere maschere similmente troppo espressive per quell'intonaco poi improvvisamente la mia attenzione fu catturata da uno degli assistenti dall'aspetto insolito era un po lontano e evidentemente ignaro della mia presenza io vedevo di tre quarti al di sopra di un mucchio di giocattoli attraverso un arco e sapete com'è era appoggiato a un pilastro in modo indolente ma facendo delle sue fattezze le cose più orribili in particolare la cosa più orrenda che faceva era con il naso lo fece proprio come in un momento di pigrizia volesse svagarsi inizialmente era un naso corto a palla e poi improvvisamente lo sparò fuori come un telescopio e questo volò fuori e sempre più sottile finché non parvi una frusta rossa lunga e flessibile era come essere in un incubo continuava a farlo e lo lanciava come un pescatore a mosca che lancia la sua esca sperai immediatamente che gip non lo vedesse mi voltai e gip era piuttosto preso con il negoziante e non pensava niente di male sussuravano insieme e mi guardavano gip era in piedi su un piccolo sgabello e il negoziante teneva in mano una sorta di grande tamburo nascondino papi gridò gip tu sei lui e prima che potessi fare qualcosa per impedirlo il negoziante aveva battuto il grande tamburo su di lui vidi immediatamente cosa accadde lo tolga esclamai in questo istante spaventerà il ragazzo lo tolga il negoziante dalle orecchie diseguali lo fece senza una parola e tese il grande cilindro verso di me per mostrarne l'interno vuoto e lo sgabellino era vacante in un istante il mio ragazzo era completamente scomparso conoscete forse quella cosa sinistra che esce dall'invisibile come una mano e vi afferra il cuore sapete che vi porta via il buonsenso consueto e vi lascia tesi e deliberati né lenti né affrettati né arrabbiati né impauriti così accadde a me mi avvicinai al negoziante sorridente e diedi un calcio allo sgabello fermi questa follia dissi dov'è il mio ragazzo vede disse continuando a mostrare l'interno del tamburo non c'è inganno allungai la mano per afferrarlo e mi sfuggì con movimento deciso cercai di nuovo di agguantarlo ma lui si voltò e aprì una porta per scappare fermo dissi e lui rise allontanandosi li balzai dietro in una buia oscurità che tonfo dio mi benedica non l'ho visto arrivare signore mi trovavo in region street e mi ero scontrato con un operaio dall'aspetto dignitoso alla distanza di una yarda magari un po' perplesso c'era ghip produssi una specie di scusa e ghip si voltò e venne da me con un sorriso luminoso come se per un attimo mi avesse perduto e aveva quattro pacchi tra le braccia si garantì il possesso immediato del mio dito per un momento rimasi senza parole mi guardai attorno per vedere la porta del negozio magico e ecco non c'era non c'era porta negozio niente solo il comune pilastro tra il negozio dove vendono le fotografie e la vetrina con i pulcini feci l'unica cosa possibile in quel tumulto mentale camminai dritto verso il paracarro e sollevai l'ombrello per chiamare un taxi carrozza fece ghip al culmine dell'esultanza lo aiutai ad entrare in vettura ricordandomi il mio indirizzo con un certo sforzo e salì anch'io qualcosa di strano si manifestò nella mia tasca posteriore del cappotto tastai e scoprì una palla di vetro con un'espressione stizzita la gettai in strada ghip non disse nulla per un po nessuno di noi parlò papi disse ghip finalmente quello sì che era un negozio cercavo di capire come l'intera cosa gli fosse parsa sembrava assolutamente incolume finora tutto bene non era né spaventato né disperato era semplicemente molto soddisfatto del divertimento del pomeriggio e tra le braccia teneva le quattro scatole accidenti cosa poteva esserci dentro ho detto i ragazzini non possono andare in negozi come quello tutti i giorni state a sentire con il suo solito stoicismo e per un momento mi dispiacco e essere suo padre e non sua madre non potendo così improvvisamente coran pubblico baciarlo lì dentro la carrozza dopo tutto pensai tutta la cosa non era stata così male ma è stato solo quando abbiamo aperto i pacchi che ho davvero cominciato a sentirmi rassicurato tre di essi contenevano scatole di soldati soldatini di piombo piuttosto ordinari ma di qualità così buona da rendere ghip totalmente dimentico del fatto che originariamente questi pacchetti erano stati trucchi magici dell'unico tipo autentico e il quarto conteneva un gattino un piccolo gattino bianco vivo bianco in ottima salute con un buon appetito e temperamento avevo vissuto questo spacchettamento con una sorta di sollievo provvisorio stetti a girare in giardino inconsapevole del tempo che passava ciò accadde sei mesi fa e ora sto cominciando a credere che sia tutto a posto il gattino aveva solo la magia naturale comune a tutti i gattini e i soldati sembravano il battaglione stabile e ordinato che qualunque colonnello desidererebbe e ghip un genitore intelligente capirà che devo muovermi con cautela con ghip ma un giorno sono arrivato a questo ho detto ti piacerebbe che i tuoi soldati prendessero vita a ghip e marciassero da soli i miei lo fanno disse ghip devo solo pronunciare una parola che so io prima di aprire il coperchio allora marciano da soli oh certo papi non mi piacerebbero se non lo facessero non mostrei alcuna sorpresa e da allora ho avuto occasione di capitare in camera sua una volta o due senza preavviso quando i soldati erano lì ma finora non ho mai trovato che facessero alcunché di magico è così difficile da spiegare c'è anche una questione finanziaria io ho l'abitudine incurabile di pagare i conti sono stato più e più volte a region street cercando quel negozio sono inclini a pensare anzi che in quel caso l'onore è soddisfatto e che dal momento che il nome e l'indirizzo di ghip sono noti a quelle persone posso benissimo lasciare che siano loro chiunque siano a inviare il conto quando è il loro conto a